Sono Fabio Lucenzi, amministratore delegato della Intermax Systeme. Oggi è il primo giorno del nostro club che ci porta da Roma fino a Torino, passando per Firenze, Bologna, Padova, Milano e Torino. Questo mese di maggio quindi avremo potuto incontrare tutti i nostri venditori, i clienti finali e poter dimostrare loro. L'aspetto interessante di queste giornate è che tutte le nostre tecnologie sono funzionanti, installate con tutte le potenzialità che possiamo avere. Le novità principali per quanto riguarda IMX è la presentazione dei pannelli G5, i nuovi touch panel modello CLS che hanno delle funzionalità molto interessanti tra le quali poter navigare in internet e poter visualizzare le linguagini ed il PowerPoint, i biglietti e quant'altro. Le altre due novità interessanti è la presentazione in anteprima del mercato italiano di due macchie da noi distribuiti da quest'anno, lì c'è lì c'è lì.